Don? Don c'è? Eh dimmi caro, dimmi come stai. Questo Veneto è bellissimo. E' fantastico. Quei due lì si sono rimessi un po' in ordine oppure... Guarda che fatica. Siamo due signorini guarda. La mia frase oggi è così, merita una riflessione per ciascuno di noi. Le vere prigioni ce le fabbricchiamo da soli. Le vere prigioni ce le fabbricchiamo da soli. Questo è un invito a tutti, a tutti, a cercare dentro di noi la bellezza e non la prigione. E quindi anche la libertà. Grazie Don Antonio Mazzi. Via le gabbie. Grazie Don.